Eccoci qua, buonasera. Mi presento, parto subito presentandomi per chi non mi conoscesse. Io sono Ludovico Cosner, ma sono qua come compagnia dell'Orto del Merlo. Che cosa significa? Perché c'è anche chi ci guarda dalla pagina della Valdichiana. La compagnia dell'Orto del Merlo, faccio un'introduzione per spiegare perché stiamo facendo questa cosa. La compagnia dell'Orto del Merlo è una compagnia teatrale amatoriale di Cetona, che quest'anno per i suoi forse 20 anni, questo è un mistero che non risolveremo mai probabilmente quando siano davvero, ha deciso di fare uno spettacolo dal titolo Non si può più dire niente, in cui abbiamo preso vari personaggi dagli anni passati, li abbiamo messi in scena insieme, facendo autocritica sostanzialmente, cioè chiedendoci quali sono i personaggi che è giusto ancora mettere in scena e quali invece non debbano più essere messi in scena. E se ha senso porsi questa domanda. Quindi, preso questo tema che ovviamente si tira dentro cose del, chiamiamolo, politicamente corretto, dell'appunto della comicità che sta morendo perché non si possono più fare battute su determinate cose, determinati argomenti, abbiamo deciso di parlarne in una maniera un pochino più strutturata e approfondita con Marina Coollo, per l'appunto, che è una scrittrice, comica e content creator che adesso vi faccio, accolgo qua dentro alla nostra diretta. Ciao Marina. Buonasera, ciao, buonasera, buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie a Ludovico per avermi invitato. Sono felicissimo di questa cosa, cioè non... Quando ci siamo accordati all'inizio, ero talmente... Fremevo così tanto che l'ho dovuto dire almeno ad un'amica che ti segue e che è stata felicissima di questa cosa. E poi l'ho tenuta per me per tantissimo tempo e poi alla fine, per fortuna, c'è stato modo di raccontarla e di essere qua. Quindi, prima di iniziare, poi ci buttiamo subito, ci tuffiamo nell'argomento perché abbiamo un'oretta e, insomma, le cose da dire sono un bel po', ricordo a chi ci sta guardando che può commentare, fare domande evitiamo i commenti di insulto, possibilmente conoscendo i due pubblici non credo ce ne saranno però, insomma, meglio specificarlo commentateci, noi poi vi leggiamo e se abbiamo tempo vi rispondiamo. Quindi, partiamo e Marina, ti chiedo quindi subito dall'inizio partiamo proprio da questo è vero che non si può più dire niente? Ma non è vero, anzi in realtà si può dire di più molto di più di prima la differenza anzi, non c'è neanche una differenza perché in realtà alla fine è sempre così ogni cosa che diciamo ha delle conseguenze cioè in realtà si può dire qualsiasi cosa ma poi quello che dici insomma ti assumi la responsabilità per cui devi anche mettere in conto che possono esserci delle conseguenze su quello che dici per cui in realtà adesso si può dire molto di più di prima perché la differenza sta nel fatto che tantissime persone che prima non avevano voce adesso ce l'hanno e tantissime persone che prima non avevano la possibilità di farsi sentire perché non avevano un mezzo semplicemente non riuscivano ad accedere ai canali comunicativi tradizionali televisioni giornali media classici adesso hanno uno strumento che è insomma libero per tutti i social per cui adesso in realtà c'è molta più possibilità di dire le cose il problema però è appunto che come dicevo prima se c'è un dibattito in corso qualunque cosa dicano le persone è chiaro che c'è possibilità di replica per cui eh questo è il fatto quando una persona dice una cosa è bene pensarci perché poi ovviamente possono esserci delle conseguenze ecco è una cosa non mi viene da ridere perché è una cosa che io ho provato a spiegare più volte senza senza riuscire a spiegarlo nel modo in cui l'hai spiegato tu quindi grazie è stato già partiamo così insomma io sono già super contentissimo e parlando proprio del fatto che un tempo le persone c'erano persone che categorie di persone poi anche persone singole ma parliamo di categorie di persone che non avevano una voce adesso sì quindi c'è stato un cambiamento nel tempo e questo ovviamente ha portato anche un cambiamento nella comicità perché la comicità non è una cosa statica e fissa nel tempo che rimane sempre identica a se stessa io non faccio teatro da una vita anche se quasi e comunque la maggior parte degli spettacoli che ho fatto sono commedie ho visto un cambiamento nel corso del tempo sia da parte mia di come dire creatore sia da parte del pubblico tantissimo è una cosa piuttosto recente in realtà però fino a qualche tempo fa c'erano degli argomenti che se tirati fuori per deriderli ovviamente avevano sicuramente successo nel far ridere il pubblico e quindi avevamo le persone omosessuali le prostitute il sesso anche insomma erano tutti temi che se affrontati in un modo derisorio avevano un effetto sicuro adesso non è più così perché appunto la comicità cambia con il suo tempo con la società in cui si sviluppa o meglio non è che non facciano più ridere perché c'è sempre una fetta di persone che ride di quelle cose perché innanzitutto la risata è soggettiva per cui non tutti ridiamo delle stesse cose e dipende anche molto dal tipo di informazione e bagaglio diciamo che abbiamo acquisito nel tempo e al nostro personale pensiero su determinati argomenti per cui adesso la differenza è che appunto essendoci persone che hanno una voce ecco possono dire la loro e sul loro modo di vedere le cose quando prima diciamo chi si esprimeva era solo una certa fetta per cui quel tipo di comicità faceva ridere faceva ridere solo la fetta che aveva la possibilità di esprimersi e chi chiaramente non era di quella visione non poteva esprimersi adesso invece c'è un bilanciamento in questo per cui anche la comicità è cambiata perché allo stesso tempo più persone hanno avuto accesso alla comicità per cui abbiamo una quantità oddio partiamo dal presupposto che c'è ancora uno sbilanciamento nel senso che la comicità è ancora in mano a un certo tipo di persone e mi riferisco chiaramente ai maschi etero cis questa è la verità perché di fatto l'altra fetta di persone rimane comunque quantitativamente inferiore insomma anche semplicemente volendo considerare le donne comiche sono comunque un numero inferiore rispetto agli uomini perché la comicità in generale è sempre stata un po' un terreno maschile sia in passato e adesso le cose stanno cominciando a cambiare per cui anche questo influenza chiaramente tutti i cambiamenti che sono avvenuti nel tempo ma non solo anche il pensiero delle persone su determinati argomenti è cambiato cioè un certo tipo di comicità che magari si faceva negli anni 80 oggi non è assolutamente più riproponibile se pensiamo alle vecchie commedie anni 70 piene di sessismo omofobia insomma le classiche commedie insomma non lo so semplicemente dove non lo so Lino Banfi che fa commenti sessisti o omofobi o la classica commedia italiana degli anni 70 oggi non è un tipo di comicità che può essere più riprodotta proprio perché innanzitutto il pubblico è diventato più consapevole di quei temi per cui adesso anche la sua risata è cambiata è cambiata perché ognuno di noi evolve nel tempo e le comunità evolvono insieme alla comprensione di determinate tematiche per cui anche la comicità si è chiaramente evoluta poi continuano a esserci ancora comici che fanno un certo tipo di battute e lo sappiamo però così come loro hanno la possibilità di farle c'è anche una fetta di comici comiche e comic che insomma possono adesso dire la loro in questo senso e portare una comicità che fondamentalmente è il loro punto di vista e per me l'equilibrio è sempre la chiave migliore nel senso che dare la possibilità in generale a tutti e tutte di esprimersi è la cosa migliore poi se è un comico non riesce ad evolversi e sta ancora le battutine della donna con la sorpresa e tutte quelle robe lì è chiaro che poi ma chi ti segue più ma chi viene a vedere i tuoi spettacoli cioè ma alla fine sarai anche libero di farlo ma il tuo successo si ferma appunto perché perché non stai al passo con i tempi partivo con il microfono staccato no no ma assolutamente la questione è molto la sensibilità individuale che poi diventa la sensibilità anche sociale e collettiva anch'io su certe battute ridevo fino a qualche tempo fa penso alle battute grassofobiche per esempio ne ho fatte tantissime ne ho ci ho riso quando ho scritto cose con battute sessiste ho scritto nel senso poi ho cambiato punto di vista per l'appunto perché ho ascoltato assolutamente ma la grassofobia per esempio è un terreno su cui anch'io nel tempo ho imparato ma che prima avevo una visione completamente errata o comunque una visione dettata da insomma l'idea culturale che ci viene propinata riguardo al corpo grasso per cui anche lì c'è stato da parte mia un lavoro in cui anche battute che riguardano la mia persona che non so trattano di set talk oppure erano intrinsecamente autoironiche verso magari i corpi grassi o in generale battute del genere io ho smesso di farle perché ho compreso perché innanzitutto non si sposano più con la mia idea proprio culturale in generale del corpo e quindi non non sento proprio di farle perché insomma sarebbe come dire una cosa che va contro quello che penso e neanche nell'umorismo riuscirei a farlo ecco per cui anche qui insomma anche se le cose anche se puoi far parte di un gruppo marginalizzato ecco secondo me siamo tutti qui per crescere e per cambiare sempre e imparare il punto di vista delle altre persone ci aiuta anche ad affinare la nostra creatività il nostro umorismo e insomma a tirar fuori sempre una sfida per me queste cose devono essere utili non per dire oddio adesso non mi fanno fa più niente no anzi devono essere uno stimolo per dire ah adesso io devo trovare la chiave giusta mi devo mettere in una modalità di sfida verso me stessa e migliorare migliorare e insomma trovare punti nuovi attacchi che non avevo considerato cioè in realtà devono essere uno stimolo non un blocco la sento la sento un sacco anche io questa cosa quando quando scrivo ci sono delle volte in cui mi trovo a scrivere e dico in automatismo mi esce una cosa magari dico calmo fermati che cosa hai appena fatto e devo dire che in questo lo spettacolo che abbiamo fatto quest'anno che è proprio su una riflessione su quello che è stato fatto in passato ora gli spettacoli di questi 20 anni non sono tutti miei ovviamente perché io 20 anni fa avevo 7 anni quindi ovviamente non facevo il dramaturge il recista però ecco mi ha aiutato tantissimo anche a decostruire cioè quella cosa che dico ah mi ricordo quella cosa che mi faceva tantissimo ridere e poi adesso sono andato a riguardarmele e ho pensato ecco ok qui c'è stato un cambiamento senza ombra di dubbio prima di andare un attimo oltre dico un attimo che cos'è la grassofobia perché magari alcune persone non l'hanno manco mai sentita nominare delle persone che ci seguono il sessismo credo che insomma lo sappiamo bene o male che cosa sia la grassofobia è tutto quello insieme quel sistema chiamiamolo di marginalizzazione discriminazione di rifiuto e insulto ai corpi grassi per l'appunto perché si si può dire grasso anzi non dirlo quel politicamente corretto che tanto la gente detesta no quei termini come dire le persone di colore e invece no le persone nere perché le stesse persone nere chiedono di essere chiamate così quindi ok poi dopo ci arriviamo forse un attimo al politicamente corretto non so se ci vuoi entrare adesso se vuoi dire qualcosa ma l'hai già c'è no perché in realtà quello che prima di diventare politicamente attuale politicamente corretto attuale che fa arrabbiare tantissimo le persone il politicamente corretto era quella forma tra virgolette ipocrisia nell'usare certi termini rispetto ad altri però poi magari nella sostanza diciamo così non avere un comportamento che è diciamo rispettoso come per dire ad esempio comunque non ascoltare le persone che ti stanno dicendo guarda non serve che mi infiocchetti il termine usa quello che la mia comunità ha deciso perché non soffende nessuno anzi se tu mostri di infiocchettarmi il termine vuol dire che sei a disagio con quella situazione e io insomma lo faccio notare stessa cosa insomma le persone grazie hanno scelto e hanno specificato che grasso non è pulizuta assolutamente per cui è giusto saperlo è giusto utilizzare il termine allo stesso modo ad esempio nella comunità disabile le persone ciliche vogliono essere chiamate ciliche non vedenti parzialmente vede insomma tutti quei termini un po' così oppure non lo so il classico diversamente abile tutte cioè no allora ci sono dei termini che la comunità ha scelto le persone ciliche vogliono essere chiamate ciliche le persone sorde vogliono essere chiamate sorde le persone disabili sono disabili punto non diversamente niente per cui ecco il cercare sempre termini alternativi rispetto a quelli che la comunità ha scelto è il cosiddetto politicamente corretto che insomma mi dimostra che tu sei a disagio con quella situazione vai cercando paroline che ti confortino o che ti aggiustino il tiro non serve basta informarsi ascoltare le persone dire le dirette interessate e quindi di utilizzare i termini che loro hanno scelto ecco sì poi c'è ci sono anche le persone che questo ascolto non lo vogliono fare e quindi dicono eh uno o ci sta impedendo di dire delle cose ma come abbiamo detto prima non c'è nessun divieto non abbiamo il potere non esistono persone che abbiano il potere a parte lo Stato che abbiano il potere di dire è vietato dire questa parola no anche perché nessuno è andato in carcere dopo uno spettacolo nessuno ha visto bruciare i propri libri per cui non mi pare che ci sia censura oggi eh già eh già è neanche la famosa cancel culture che ah questo è un discorso super complesso però non approfondiremo però ci sono personaggi che sono stati cancellati tra virgolette e poi in realtà sono in prima serata su Rai 1 su Italia 1 su Canale 5 vendono libri che fanno un milione di copie quindi evidentemente un divieto non c'è non abbiamo non c'è questo potere questa dittatura e va bene ma visto che siamo sull'argomento sull'argomento come dire battute e non sulle categorie discriminate perché una delle cose che sembra che non si possa più fare è questo cioè ridere di persone che appartengono a categorie discriminate o di ridere di categorie discriminate nel complesso quindi appunto diciamo le persone disabili oppure le persone lgbtqa plus le persone grazie insomma è così è vero cioè non è ora io ti faccio una domanda molto così ovvero è vero che non si possono più fare battute su queste categorie e quando vengono fatte e c'è una reazione di rabbia cosa succede cosa sta succedendo allora un tempo mi riferisco agli anni 90 eccetera quando le persone andavano in televisione un comico andava in televisione gli si diceva espressamente che c'erano gli argomenti che proprio erano intoccabili tipo i disabili la religione e altre cose del genere erano un po' diciamo terreno però di fatto in realtà oggi non è più così innanzitutto e soprattutto non è vero perché questo tipo di reazione è semplicemente la risposta è quello che dicono le persone quando si sentono criticate sulle loro battute per cui non è vero che ci sono c'è un terreno che non si può toccare almeno personalmente per me si possono fare battute su qualsiasi cosa l'importante però è saperle fare essere consapevole dell'argomento che stai trattando e soprattutto assumerti la responsabilità di quello che dici per cui se fondamentalmente persi una merda e poi insomma ti toccano le conseguenze e le conseguenze non sono censura come le persone pensano oppure insomma roghi e fuoco e fiamme no semplicemente le persone esprimono dissenso per una battuta venuta male e amen quello è però insomma secondo me oggi qualunque tipo di argomento si vuole trattare secondo me va trattato con un buon bagaglio di informazione anzi in realtà la comicità ci porta anche verso una rottura della discriminazione cioè fondamentalmente ha la capacità di andare oltre cioè se la gente è convinta che di certe cose non si può più scherzare in realtà scherzandoci bene tu riesci a rompere lo stereotipo a distruggere quella discriminazione che viene fatta su quell'argomento il punto è secondo me è il messaggio che tu vuoi dare dove stai mirando stai mirando in alto o stai mirando in basso stai mirando verso l'oppressione verso il potere o stai mirando alle persone discriminate perché se stai mirando alle persone discriminate io ti dico cioè con chi stai lavorando con favore delle tenebre no cioè non va bene il punto è cercare di insomma andare verso un messaggio che sia costruttivo che mi porti ad una narrazione che l'oppressione me la distrugge non me la favorisce se no che sia che 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 stiamo a facqua niente cioè non va bene così per cui ragionare sempre su un messaggio che una persona vuole portare in qualsiasi contesto è fondamentale cioè sia a te ti sta venendo il dubbio che forse il messaggio non è esattamente chiaro ecco due conti te li devi fare poi per carità sbaglia possiamo sbagliare tutti e non c'è niente di male cioè domani potrei farlo anche io una battuta di merda e sbagliare perché ho calcolato male magari avevo delle ottime intenzioni e non non mi è riuscita ecco in quel caso non c'è neanche niente di male a chiedere scusa a dire scusate ho fatto uno sbaglio ho sbagliato cioè ma che male c'è io penso che siamo qui nessuno è infallibile innanzitutto ma poi siamo qui per crescere per cui il problema è quando ti trinceri nelle nelle tue convinzioni senza fare autocritica senza metterti in discussione e allora forse il tuo sguardo è un po' ristretto forse lo stai considerando tutte le possibilità e allora secondo me c'è da lavorare in quel caso anzi vorrei aggiungere da persona che scrive per l'appunto quando mettiamo in scena delle commedie che ho scritto io mi capita appunto quest'anno poi in particolare che sono andata a riguardarmene tutte mi capita di rendermi conto che ho fatto delle cose proprio non bellissime e questo mi capita ovviamente di avere un po' il timore di questa cosa anche quando scrivo altre cose perché io scrivo anche racconti romani insomma quindi mi capita di pensare no ma avrò scritto questa cosa sarà discriminatoria sarà ma anche se ovviamente il timore c'è perché nel senso anzi assolutamente io non vorrei mai insultare le persone e mai contribuire alla discriminazione quindi mi dispiacerebbe cioè sarebbe un grande dispiacere farlo ma se lo faccio è bello è giusto che mi venga fatto notare cioè nel senso è un momento di crescita importante quelle volte in cui mi accorgo che di aver fatto queste cose o mi viene fatto notare ok ho sbagliato appunto come dicevi si chiede scusa si va avanti e si farà meglio la volta dopo e infatti mentre parlavi mi è venuto in mente un non so se noi vogliamo parlare un monologo piuttosto celebre anche se non per cose buone che è quello di Pio Emedeo che lo nomino perché mi è stato chiesto più volte visto che comunque persone che conosco che hanno nella mia vita sanno che ci tengo a questi temi e mi hanno chiesto ma perché quel monologo lì era problematico perché che cosa è successo in quel monologo e lo spiego un attimo insomma per chi non sapesse niente della vicenda Pio Emedeo sono due comici che evidentemente non sono stati cancellati visto che erano in prima serata su Rai 1 o Rai 2 non mi ricordo e hanno fatto questo monologo in cui dicevano per l'appunto che se una persona viene chiamata con la parola con la F che sarebbe la parola un pochino più denigratoria per dire gay e che viene chiamata una persona nera che viene chiamata non nera ma la parola con la n cioè nero con una g nel mezzo non bisogna prendersela quando comunque si viene insultati perché si fa parte di una categoria discriminata non bisogna prendercela bisogna ridere e poi ridere come se tutte le persone potessero ridere cioè avessero la stessa sensibilità e poi questo faccio un piccolo spoiler dopo che sono stati criticati per questo monologo loro invece che ridere sono andati in giro a lamentarsi per testate giornalistiche ma a prescindere dall'epilogo di Pio Amideo che cosa c'era che non funzionava in questo monologo beh innanzitutto trattare un argomento che loro non conoscono minimamente per cui come dicevi tu già utilizzare la F word e la N word e dire alle persone fatevi una risata significa innanzitutto non considerare minimamente il vissuto di queste persone che insomma in queste situazioni hanno subito tanto e a volte si è sposati anche a una violenza estrema per cui fatti la risata insomma denota innanzitutto ignoranza totale sull'argomento ma poi non solo il punto è che il messaggio di tutto quel monologo era che conta l'intenzione e non le parole beh innanzitutto se contasse l'intenzione e e non le parole e alla fine insomma penso che denunce di querele non avrebbero motivo di esistere se contano le intenzioni e non le parole perché poi ti dice scusa la mia intenzione non era questa ho usato le parole sbagliate e perdono cioè non era non avete capito niente di quello che ho detto beh no le parole contano le parole contano e hanno un peso hanno un peso nella vita delle persone perché altrimenti voglio dire i libri non li scriveremo con le parole non lo so useremo i simboli così le parole hanno un peso per cui pensare che sia solo l'intenzione ad avere un un l'importanza significa de-responsabilizzare le persone nel momento in cui fanno qualcosa significa ok vale tutto se l'intenzione è buona no tu ti devi informare e devi sapere come agire come parlare quali sono i termini giusti e soprattutto anche se l'intenzione era buona ma il tuo risultato non è buono è tuo dovere correre ai ripari è tuo dovere dire scusa informo medio e capisco dove ho sbagliato altrimenti voglio dire anche i bambini hanno ottime intenzioni quando vogliono accarezzare un gatto e gli tirano la coda che glielo fai fare perché il bambino ha l'intenzione buona no gli dici guarda il gatto non si tira la coda anche se tu gli vuoi tanto bene gli fai le carezzine o no il concetto è questo per cui no non va bene e quel monologo insomma ha ricevuto giustamente tante critiche per questo che poi come dicevamo prima nel momento in cui decidi di fare un certo monologo una certa battuta una certa cosa poi ti prendi la responsabilità di quella cosa che hai detto perché la puoi dire ma poi se ci sono delle reazioni di un certo tipo le prendi non dici ah non ci avete capito è colpa vostra è colpa cioè solo che il privilegio di determinate persone si vede poi perché comunque nonostante scivoloni enormi quelle persone continuano a lavorare le continueremo a vedere in prima serata le continueremo a vedere ospiti di numerosi programmi continueranno a fare la loro comicità questo innanzitutto ci dice che si può dire tutto loro lo dicono lo dicono non c'è nessuna cancellazione e soprattutto se chi non vuole ascoltare decide di non ascoltare continueranno a non ascoltare però l'importante è che ci sia anche l'altra fetta delle persone che hanno la possibilità di dire la loro il problema è che per adesso varcare la foglia del mainstream per quelle persone è ancora molto complicato perché se prima meteo riescono a fare quel monologo in prima serata una persona che fa parte della comunità lgbt oppure una persona disabile o una persona che fa parte di qualsiasi gruppo marginalizzato un programma in prima serata ancora non ce l'ha e questo questo qua è il problema nella sproporzione però su Netflix ora questo lo tiro fuori perché l'ho scoperta grazie a te tra l'altro ci sono degli speciali di alcuni comici che fanno battute su veramente cose che qui diremmo ah ma non si possono fare quelle battute perché sono argomenti tabù no appunto la disabilità oppure l'autismo insomma e altre cose ma che le fanno bene cioè nel senso le fanno fanno ridere queste battute sono monologhi che fanno ridere e non ridono delle dei gruppi marginalizzati ma con i gruppi marginalizzati che è tutta un'altra cosa ovviamente soprattutto di Anna Gatsby principalmente e poi c'è anche tra l'altro tra l'altro insomma per chi non lo sapesse a gennaio è a Milano io purtroppo non potrò andare a vederla però insomma insomma per chi ha la possibilità è veramente una comica che non dovreste perdere sì sì la trovate su Netflix per l'appunto ci sono due due mi sembra due speciali Nanette e Douglas e poi c'è anche Daniel Sloss che tra l'altro Daniel Sloss è la riprova che non è che di determinati argomenti possono parlare solo le persone che fanno parte di quel gruppo ma se tu sei padrone dell'argomento e l'argomento lo sai trattare bene anche se non fai parte di quel gruppo ma puoi tranquillamente fare delle ottime battute perché insomma appunto quell'argomento tu lo conosca molto bene e magari perché hai avuto la possibilità di entrarci dentro di avere un contatto diretto con con questa cosa Daniel Sloss aveva una sorella con disabilità per cui una parte del suo monologo in Dark è proprio sulla sorella fa delle battute strepitose però la cosa bella è che Daniel Sloss mette proprio alla prova il pubblico mettendolo a disagio a disagio nel loro abilismo cioè glielo tira proprio fuori con le battute che fa per cui è molto 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 forte questa cosa e ti rugo delle parole che hai detto altrove perché insomma bene o male ti leggo ti seguo ti ascolto grazie il il fatto di pensare che non si possa ridere di una certa situazione o condizione è disumanizzante perché le persone riescono le persone ora qui parliamo del pubblico quello maggioritario quindi il pubblico senza disabilità il pubblico etero il pubblico cisgender e così può ridere della sua vita delle cose che succedono nella sua vita quindi pensare che i gruppi marginalizzati non possano ridere su cose che capitano a loro è un po' appunto disumanizzante assolutamente poi tra l'altro c'è una cosa che dice Anna Gatsby nel suo spettacolo che secondo me è fondamentale la differenza tra autoironia e autodenigrazione self-deprecation in inglese si traduce autoironia ma in realtà non è quello il reale significato che Anna Gatsby vuole intendere quando dice che smette di fare self-deprecation perché lei smette di fare quelle battute che la denigrano che è ben diverso dal fare autoironia perché l'autoironia significa ridere la propria quotidianità non per denigrarla ma semplicemente per ridurre l'impatto che certe cose hanno su di noi cioè quando fai parte di un gruppo marginalizzato capita spessissimo di ricevere discriminazioni di ogni forma che hanno un impatto grande sulla nostra vita quando facciamo autoironia è un po' come fare una autoterapia e alleggerire il peso di quella discriminazione ai nostri confronti quindi quando lo andiamo a raccontare la depotenziamo depotenziamo la discriminazione nei nostri confronti depotenziamo l'oppressione ecco questa è autoironia e per me ha un potere straordinario attraverso l'umorismo e la comicità che è ben diverso dall'autodenigrazione quando ridiamo per ridicolizzarci ecco lì non facciamo qualcosa di tanto diverso dal classico comico che fa la battuta discriminante ma se invece riusciamo a padroneggiare bene l'autoironia quello è uno strumento molto potente ed è questo che Anna Ghesby specifica in Nanette quando dice io ho smesso di fare purtroppo i sottotitoli la traducono come autoironia ma è autodenigrazione più corretto quindi lei smette di fare questo perché all'inizio della sua carriera molte battute erano autodenigratorie ma lei ha compreso che non faceva niente di diverso dalla comicità classica che non punta in alto per cui ha proprio detto al suo pubblico che anche la sua comicità si è evoluta e questo è fondamentale secondo me per andare verso la fine io ti chiederei se oltre appunto a Anna Ghesby e Daniel Sloss che sono su Netflix basta ricercate nella nella funzione ricerca di Netflix se ci sono cose che ci consigli persone comici comiche 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 a parte aspetta provo a fare una cosa non so se ci riesco se non riesco a smontare tutto a parte questo no vabbè grazie questo è il libro di Marina l'ho letto poco fa poi ti dirò mi è piaciuto molto questo è un libro da leggere è comico è ironico non è self deprecation grazie quindi quello è un consiglio che do io qui così perché vai poi ora ti lascio la parola allora poi sicuramente al volo mi viene in mente Nate che è uno spettacolo comico ma anche teatrale di Natalie Palamites che trovate su Netflix ed è molto bello perché è sulla mascolinità tossica molto molto bello e poi come altri una comica anzi comic che consiglio è May Martin che tra l'altro su Netflix di spettacolo suo speciale non c'è si trova un piccolo diciamo episodio in una serie di spettacoli di vari stand up comedian che è stand up comedian from the world qualcosa del genere comunque cercando il nome esce fuori tutto quello che la riguarda e poi c'è la serie tv in cui è protagonista che è Feel Good due stagioni e anche quella non è esattamente comica come uno spettacolo di stand up comedian quella serie però comunque è molto interessante da vedere e poi così a volo mi vengono in mente queste due persone però sicuramente ce ne sono che ho una memoria diciamo così e sicuramente quelli che ho che ho nominato adesso sono i più interessanti da vedere al momento ma se insomma spulciate anche un po' magari il podcast che ho fatto con Irene Fageris ne nominiamo altri cercando anche su Netflix sempre poi Netflix consiglia insomma comici e comiche simili a a quelli che vedete poi c'è anche lo spettacolo di Bob Barnum Inside Bob Barnum è un un comico molto bravo e lo consiglio Inside è uno spettacolo molto particolare perché è tutto sul girato da solo durante il periodo del lockdown e insomma ci sono è anche molto introspettivo però ci mette proprio tutta una serie di canzoni all'interno perché lui è anche musicista e la sua comicità si sviluppa si sviluppa proprio attraverso le canzoni e i testi chiaramente insomma parlano anche di privilegio moltissimo di privilegio per cui è molto interessante da vedere Bob Barnum è un comico genio che giovanissimo ha fatto già diversi speciali è regista è attore insomma una di quelle persone piene di talento e niente questi mi vengono in mente che sono molto interessanti c'è una domanda che ti leggo adesso la metto in sovrimpressione se si vede sì e la leggo anche così un sano umorismo sulle nostre parti caratteriali nella mia visione ci aiuta ad essere più veri per me più che auto-ironia è più corretto dire auto-umorismo l'ironia è sempre un po' caustica vi risuona? ma l'ironia in realtà si manifesta sotto molteplici forme perché è una figura retorica che può essere insomma espressa in vari modi per cui è molto generico come termine cioè ci sono molti modi di fare ironia quella caustica magari che ne so il sarcasmo ci sta è caustico ma l'ironia non è sempre caustica per cui per me va bene sia auto-ironia che auto-umorismo cioè ci sta ci sono vari modi di fare ironia per cui a volte può essere caustica ma a volte anche no bene poi ci sono due persone che ci ringraziano le metto qua e io ti ringrazio intanto poi se mi dai il permesso di fare due ringraziamenti veloci poi ci salutiamo assolutamente sì come ti dicevo prima dell'inizio Luisa ti ringrazio per la risposta intanto come dicevo prima di iniziare mi scorderò sicuramente qualche ente qualche persona vabbè comunque partirei ringraziare innanzitutto gli operai dell'acquedotto che hanno riattaccato l'acqua prima di questa diretta così ho potuto lavare i capelli perché ti spiego l'antefatto io mi ero stracciato i capelli quindi avevo tipo una criniera da leone pazzo e in quel momento abbiamo scoperto che non c'era l'acqua e quindi ho detto come facciamo adesso come faccio come mi presento a questa diretta e poi per fortuna l'hanno attaccata proprio in tempo perché io potessi lavare i capelli ed essere qua in una condizione quasi decente e quindi intanto grazie agli operai dell'acquedotto poi devo ringraziare il comune di Cetono ovviamente che ci sostenta e ci governa come in quanto compagnia dell'orto del merlo e tutta la compagnia ovviamente che quando ho proposto questa diretta mi ha detto dai e sono stato super felice di questa risposta la valdichiana che è il magazine che ci ospita sulla piattaforma che stiamo usando e stiamo andando in diretta anche sulla loro pagina credo basta però magari mi sono perso qualcosa e qualcuno ovviamente qualcuno qualcuna qualcuna ovviamente ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito e che ci hanno guardato non ci sono stati trilioni di commenti ma spero che avremo lasciato qualche semino qua e là e che comunque questa diretta rimarrà visibile anche dopo per cui spero che nasceranno domande cose commenti chiacchiere e soprattutto spero che quando la situazione sarà un pochino più tranquilla a livello sanitario e tutto riusciremo ad averti qua di persona mi farebbe davvero molto bene sarebbe bellissimo chissà magari anche con un monologo con un qualcosa ma magari sì speriamo insomma mi farebbe molto piacere certo bene bene dai grazie mille e appunto seguite Marina cercatela su Instagram lei è super divertente e anche molto riflessiva non riflessiva non so se è la parola giusta comunque fa riflettere molto e fa aprire il mondo cioè guardare il mondo con occhi nuovi da un nuovo punto di vista quindi andatela a cercare e ampliate il discorso perché non è finito qui ovviamente grazie infinite Marina è stato bellissimo grazie a Ludovico grazie a tutte le persone che ci hanno seguito insomma speriamo di di rivederci presto a presto davvero speriamo presto 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 sì grazie a tutti tutte e tutta e buona serata grazie a tutti